Qualunquismo Qualunquismo, pochi sanno cosa voglia realmente dire, ma in tanti sono pronti a giurare che il qualunquista è un uomo egoista, gretto, che bada solo agli affari suoi, che evita qualsiasi impegno politico e sociale. Se invece leggiamo la straordinaria avventura di Guglielmo Giannini, fondatore del settimanale L'Uomo Qualunque e poi dell'omonimo partito politico, scopriremo che quel commediografo di successo, giornalista, scrittore, era un uomo serio, pur con le sue intemperanze e col suo carattere sanguigno e ruente. Scopriremo che il movimento politico che fondò aveva probabilmente un difetto fondamentale, era troppo moderno. Grazie all'Eld per aver sponsorizzato questo convegno su un tema importante, quello del populismo. Giannini nell'immediato dopoguerra, Beppe Grillo oggi rappresentano entrambi uno sfogo forte da parte della popolazione rispetto alla classe politica prevalente, ai poteri forti con modalità diverse, ma dove il comune denominatore è l'insofferenza nei confronti di una situazione oggi sicuramente non più tollerabile per le conseguenze pesantissime sul piano economico, sul piano sociale, sul piano politico. L'ospicio è che sia invece la politica a occuparsene direttamente, non limitandosi alla denuncia, ma bensì alla proposta e alla costruzione di un'alternativa. La vera storia dell'uomo qualunque, riferendosi all'uomo qualunque di Guglielmo Giannini, quello nato nel 1944 come rivista e successivamente come partito, è la storia di un tentativo di fare un'azione politica veramente mirata per le persone, nell'interesse delle persone e della libertà delle persone. Naturalmente con tutti i riferimenti alla situazione particolarissima che viveva l'Italia nell'immediato dopoguerra, ma è importante conoscere questa storia perché il termine qualunquismo è stato tramandato come un termine negativo, mentre invece se noi conosciamo la vera storia dell'uomo qualunque ci rendiamo conto di come ci fosse una carica positiva e direi di grande attenzione per i cittadini in quella proposta politica. Diciamo che in qualche modo si può fare un paragone tra quello che fu l'uomo qualunque di Guglielmo Giannini e quello che è adesso il Movimento 5 Stelle di Grillo, perché il punto di partenza è abbastanza simile, cioè protestavano contro la pressione fiscale dello Stato e infatti il famoso omino premuto dal torchio, dalle cui tasche schizzavano le monetine, era proprio l'italiano medio che non ce la faceva più a pagare le troppe tasse. Questo era il punto di partenza. Poi naturalmente Guglielmo Giannini non riuscì a portare avanti il suo progetto perché ci fu il braccio di ferro tra la democrazia cristiana e il partito comunista e chi non era comunista fu portato a votare per la democrazia cristiana per non perdere dei voti. Adesso invece la situazione è molto diversa. C'è un punto di partenza analogo, ma un punto di arrivo molto dubbioso, ipotetico, con un grosso punto interrogativo. A cosa può servire la vera storia dell'uomo qualunque? Oggi con il fenomeno Grillo che è estuoso dopo le elezioni del febbraio ci può aiutare a capire quale potrà essere lo sviluppo. In pratica l'uomo qualunque, Giannini, ha percorso prima di lui questo difficile e tumultuoso percorso politico. Quindi osservando Giannini e la storia dell'uomo qualunque ci aiuta a capire quale potrà essere il prossimo futuro di Grillo e del suo movimento.